Questa è una delle viuzze. Ci sono tante piccole case che si chiamano Sotoyu e sono aperte al pubblico. Come questa, vedi? All'apparenza sembra quasi un bagno, una toilette, invece dentro ci sono le onsen. Cioè ragazzi, qui ci sono terme, naturali e prodotti. Guardate, dalla fontanella esce l'acqua termale. Ecco, l'ho trovata. Posso mettere anche i miei piedi. Ok, andiamo a provarlo ragazzi. Raga, sono qua. Ah, è caldissima. Ah, è caldissima. Che cazzo è? Raga, è caldissima. Quindi non fate come me, mettete prima, bagnate prima nei piedi, prima di entrare. Ragazzi ho percorso questa scala, c'è un fiatone, per raggiungere il tempio qua sopra. Finalmente ho trovato uno dei miei ryokan che rappresento. che sono qua, che si chiama Ishiya Torazo. O ryokan come vedete è molto tradizionale, a tre piani. Vi metterò il link in descrizione, per vedere cosa c'è dentro e quanto è più costo e come ve lo tavolo. Guardate che oggi è caldo, tutta la neve si sta assogliendo e ha creato un bellissimo arcobaleno. Ecco ragazzi, vedete questa cosa? Praticamente questi sono degli stamp e chi alloggia in questo villaggio, il ryokan dà un, tra virgolette, un telo dove si possono mettere tutte le stamp e quindi si fa la visita delle acque termali della zona. Vedi? Come quella che ho fatto vedere prima, poi c'è anche questa. E poi una volta finito si fa lo stamp per fare, tra virgolette, la collezione che siete andati in tutte le onsen dentro il villaggio di Sipu Onsen. Secondo me è una cosa simpatica e carina. Quindi ragazzi, adesso vi insegno una cosa molto carina. Prendete questo biglietto, praticamente costa 500 yen e potete entrare in una delle onsen della città. Ok? Se fate vedere questo biglietto in uno dei negozi locali, vedete un asciugamano dove potete mettere le stamp di ogni onsen. Ovviamente non entrerò in tutte le onsen perché non è possibile. Però cercherò di fare tutte le stampe per completare tutto il percorso. Questo mio biglietto costa 500 yen. Vedete la mappa, no? Adesso io andrò a vedere l'Incomission Center e partirò dal 5. Vado su e fare tutto questo. Mi hanno consigliato di andare dentro il 9 perché lì posso usare la telecamera. Quindi sono andato in questo negozio, lui mi ha dato il towel e questo il bigliettino. Adesso mi ci porterà. Adesso con la chiave mi porta nelle terme. Raga è stato bellissimo, devo dire che l'acqua è caldissima. Può raggiungere anche 62 gradi, 50 gradi, ma quello che ho solito io era 42 che era accettabile. Perfetto raga, ora è il momento di fare il giro per le stampe. Quindi questo è il towel, ecco qua, e qui iniziamo a mettere le stampe. Ecco, quella che sono appena entrato è la numero 9 che si legge OIU che è questa qua. Quindi io adesso prendo di rosso e poi penso che sia così. Ok. E qua sotto. Uno completato. Quindi adesso andiamo a cercare le altre. Raga ho completato il percorso. Allora adesso mi hanno detto che c'è una fabbrica di sake appena sopra qui alla montagna dopo il ponte. Quindi sono ritornato giù, sto passando adesso il ponte per andare a vedere se c'è veramente questa sake. E mi hanno detto che c'è anche il tasting gratuito. Vediamo. Ragazzi bingo, qui c'è craft beer, sugar coin e la c'è la fabbrica di sake. Ok, qui dove fanno la fermentazione. Sono tornato a casa. Allora adesso un po' di riposo e andiamo a vedere le onsen. Quindi un po' di riposo, rispondo alle email. Quindi ci sarà la cena tradizionale in questa ryoka. E intanto mi riposo. Prima ancora di tutto, adesso ci mettiamo lo yucatan. Ciao. 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 Eccomi qua con lo Yukata Allora prima di cena andiamo a fare un bel bagnetto Ah ragazzi finalmente sono entrato nelle onsen È stata un'esperienza bellissima Due giorni fantastici che non sono ancora finiti Mi manca ancora l'ultima notte Dove stasera mangerò addirittura nel Ryokan Quindi vi farò vedere la cena tradizionale Ho visitato Shibu Onsen a Snow Monkey Ovviamente tutti i miei abitivi sono stati posti E abbiamo dormito in questo bellissimo Ryokan Ragazzi è l'ora della cena Questa è la Shinshu Beef Qui verrà cotta Allora questa è Sashimi, Capesanta e Hamachi Questa invece è la carpa fatta fritta Invece è il tempura di mela, melanzana e funghi Invece questo è il Capesanta fritto E il pollo Questo invece è un pesce di fiume Fatto cartoccio Guardate qua Ecco C'è anche il limone dentro E i funghi E vai Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace alla pagina E al prossimo video ragazzi Ciao 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 Ciao